La possibilità di lavorare in un ambiente di vacanza, in posti splendidi, a volte è un'esperienza momentanea, altre una scelta di vita. E c'è chi addirittura ha lasciato l'insegnamento per continuare a vivere in libertà. Claudio Severini, nome d'arte Gnomus. Leggo qui laureato in chimica con il massimo dei voti e la lode addirittura. Allora, insegnante, che cosa l'ha spinta a lasciare l'insegnamento e quindi a dedicarsi ai villaggi e alle animazioni? In realtà io non so bene quello che ho lasciato e quello che ho preso. Ho fatto l'insegnante e continuo a farlo come supplente a vita, ho fatto l'animatore per circa 21 anni, continuo a farlo ancora. C'è possibilità per i ragazzi di trovare poi un lavoro che non sia più stagionale? Sicuramente sì, è una grande scuola, forse una delle poche scuole che riguardano chiaramente l'organizzazione del tempo libero, dello sport e anche dell'arte. Quindi l'unica scuola forse vera sul campo.